Per lui le manette sono scattate a fine turno quando è stato beccato con addosso l'argento che aveva appena trafugato dall'azienda Orafa Guangold di Via Ramelli per la quale lavorava. Ancora un furto ai danni di un'azienda Orafa retina dopo il caso dell'argento rubato all'azienda Giordini di Pieve al Toppo e dell'oro portato via invece all'AMP di Via Rossi. Le indagini erano partite dalle segnalazioni dei titolari della ditta che da mesi avevano notato alcuni ammanchi di metalli preziosi. Erano state così installate delle telecamere nascoste che ieri pomeriggio hanno immortalato i movimenti sospetti dell'operaio. Così scattato il blitz dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo guidata dal maggiore Pierfrancesco Di Carlo che si sono precipitati all'azienda ed hanno bloccato l'uomo mentre a fine turno usciva dalla ditta. E poi scattata anche la perquisizione dentro l'auto del dipendente infedele c'erano circa 750 grammi di semi lavorati in argento che il titolare dell'azienda ha riconosciuto come provenienti dalla propria fabbrica. L'argento rubato è stato riconsegnato al titolare mentre il 37enne è stato giudicato oggi per direttissima. Adesso proseguono le indagini dei militari per approfondire se si sia trattato di un caso isolato oppure se ci siano stati altri episodi analoghi dando così origine a un'attività illecita continuata.